Ciao ragazzi, qui per Anormal Comics, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci andiamo ad aprire questi 5 pacchetti premium, scorso video. Niente male, andatevi a recuperare ragazzi, abbiamo trovato delle belle rarità e devo dire la verità, molto rotti come pack. I firmati più vivano, è veramente incredibile. Abbiamo trovato un po' di doppi, un po' di mancanti, anche un po' di doppi chiaramente. Le mancanti per la collezione hanno fatto veramente comodo, penso che siamo veramente addirittura d'arrivo o quasi, una cinquantina di card, forse pure di meno, per finire questa raccolta. Dunque, andiamo a staccare ancora i pacchetti. Famo! Sicuramente non lo fa perché se no sono troppo il pacchetto anche le pipine. Ho troppa forza ragazzi. Eh, troppo forza. Troppo, troppo. Troppo, troppo. Così forte, questo pacchetto lo aprirei tu in questo momento. A discoidenti. No, no, no. Questo, questo, devi aprire. Ora, vai, vai. Ora! Vola! Allora, ci mancano ancora un po' di giocatori, tra cui Toloi, ci manca i ciri immobile, perciò. Tra l'altro, oltre a queste limited che va bene, ok, cioè io voglio pure trovare l'invincibile, voglio avere un spetto. È vero, 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 vero. Non sto scendo niente di queste. Soperto player, cioè questa gente la vorrei. La limited sono sicuro che è questa, perché c'è il codice dietro. È vero. Uh, è vero! Allora, Diamante Miretti, 404. Manca, bella così, poi. Lui è doppio. Scamacca, beh sì. No, ce l'abbiamo. Atalanta numero uno. Ce l'abbiamo. Oh, attenzione, Andanovic. Ce l'abbiamo. Poi, Saponara, 85. Doppia. Ok, Patrick è doppia. Rui Patricio, 2,36. Stulat, 68. Attenzione ragazzi, Lazari, 153. Che piano, io non so. Ok, vai. No, ancora lui no. No, non ancora lui. Non è possibile. Non è possibile, io non ho trovato le grini per le parti, io non ce la faccio più. Ma il quarto, ho il quarto. È il quarto, io non ce la faccio più. Ragazzi, perdonateci se non troverete i pellegrini filmati nei pacchetti, li abbiamo tutti noi. Ma hai trovato una sola rara? No, no, hai trovato il suo pacchetto, Scamacca, Logo, c'è anche un quarto che sta nel raccoglitore. Sì, è il... Comunque le firmate sono rotte, ma è rotto pellegrini. Cioè è più difficile trovare non firmate. Però questa cosa le renderà chiaramente meno appetibili. Vero, vero. Oddio, può essere pure che noi stiamo avendo la fortuna della vita e siamo una volta di firmato. No, no, non ci troviamo sempre a scherzo. Hai visto il primo di questi altri cinque blisteroni. E' un po' questo pacchetto invece. 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 Cosa c'è di riserva? I blisteroni. I box sono solo così, non lo so. Tu li pagati sempre... Sì, si. E' un po' le probabilità. No, no, no. Allora, pacchetto. E tu un altro pellegrino filmato. Allora. No, era breve quello che ho visto. Era firmato. Allora, a questo punto vediamoci un attimo le rare perché ormai le ho spoilerate. Ok, allora. C'è solo, ce l'abbiamo. Sì. Oh, abbiamo tutti? Poi, intoccabile, 423, doppio, non me lo ricordo. Poi, Bremer Stella che abbiamo sicuramente. Poi, andiamo a vedere... No, altro pellegrini veramente, quitto. Allora, dimmi un po' i nomi. Allora, Padelli, 345. Sì, doppio. Sabiri, 284, non ricordo il nome. Infatti, manca. Oh, nice. Poi, Audero, 272. Manca. Davvero? Sì. Bella così. Benasser, 189. Manca. E vabbè. Forse, metti qua, metti qua. 184. Manca. Manca, manca. E poi abbiamo... Attenzione, manca! Cabral, limited edition. Alessia si salva tutti. Attenzione. Non sono più contenti di trovare, non firmate, bene. Rimangono 3 pacchetti e 3 che ce ne mancano da poter trovare. Quindi dobbiamo trovare... Chi è rimasto, chi è rimasto? Immobile. Toloi e Ternandez. Immobile, Toloi e Ternandez. Potremmo farcela, dai. Qua abbiamo trovato un sacco di mancanze in questi pacchetti premium. Io ho visto... Questo è immobile, perché ho visto Lazio. Mi sembra di aver visto Lazio. Preghiamo. Signori, preghiamo. 386. Manca! Manca! Vamo, smette a destra. È assurdo. Comunque, bairami. Ce l'abbiamo trovato. Ce l'abbiamo trovato. Spadete, vabbè, pacchetto, tutto, per scamarca. Aspetta, vedi un po'. Doppio, doppio. Ok. 270, questo potrebbe mancare. Invece no, nemmeno Valencia. Non ricordo. Cabral, 90, doppio. No. Becao. Mi è vogliato due milioni di Becao. Oh! No! Allora non li troveremo tutti, ragazzi. Eh, vabbè. Guarda, ho visto Lazio. Dove l'ho visto? Non si è sognata, Lazio. Non si è sognata proprio. 4-4-2, doppio. Trapparente si è firmato. 4-5, infatti... Perché fosse stato non firmato, tanto quanto. C'è qualcosa di molto rotto in tutto ciò, eh? Sì, vabbè. C'è qualcosa di rottissimo. Non lo troveremo tutti. Oh! Adesso che volete dire che ho trovato l'unica carta non firmata, eh? Non è vero, ho trovato anch'io. Non è vero. Ma un po' strano. Devo dire, veramente un po' strano. Vedi se ne state trovando più firmate o più non firmate. Io ho quest'altro pacchetto. Può essere il 3-2. Vado io? Sì, sì. Tocca a me. Vado io. Devo aprire anche il pacchettino. Facciamo così. Scuotimento non firmato. No, come? Ma c'è una non firmata, fidati. Dai, è una carta invincibile. Allora. Eh, sì, sì. Proprio invincibile. Subbido. Quanti ne volete di sti coticini? Ora c'è un altro. No. Spoiler, vabbè. Ragazzi. No, trovate non firmato? Ramani, di nuovo. Ragazzi. Uh, sottillo. Andiamo per il sottile. 4-2. Mannaccia. Abbiamo l'intoccabile Bairami. Doppio. Abbiamo lo scudetto della Fiorentia doppio. Abbiamo Lovric, 358. Doppio. Non riesco a trovare il lato. Doppio, tutte basi. Arnautovic, ragazzi, potentissimo. Doppio, doppio. C'è la Noglu. Doppio. Toljan. 9-4. Ce l'abbiamo. Sì. Teate. Doppio. E Zoet. E doppio. Mannaccia, ragazzi, che pacchettozzo. Vale, vado un attimo in un po' di pacchetto base, al volo, se ci sono ancora. Sì. Vai, speriamo. S'aprire del pacchetto base, magari ci trovino invincibile. No, anche se in questo box mi pare che veniva trovato... Sì. Piorella, credo sia tu. Più 286. Sì, 286. Manca. Bello. 281. Manca. Quello è lui. Bella così, dai, dai. Poi c'erano delle squadre tipo Milan, Sampdoria. Milan e Sampdoria. A cui mancavano veramente troppe carte. Sì, sì. Ma è strano. Vai, Ale, dai. Ultimo pacchetto. Speriamo di trovare... Ah, no, non possiamo trovare quelli pacchetti. Prendono, ragazzi. Mamma mia. Ti ha raggiù un po'. Non abbiamo finito le... Eh, quello è triste. Quello è triste. Allora, come premiamo... Ah? Buona. Poi... Qual è quella col codice? Questo difensore. No, l'ho trovato. L'altro romano di no. Toloi, c'è Toloi. No, no, no. Te ho firmato. Te ho firmato. Te ho firmato. Vediamo, prima di tutto, le card base. Allora. Che provi a trovare... Teo... Che poi, sì, Toloi. Toloi che raccomando. Troverà quella della stessa volta in cazzo, ragazzi. Ci manca la 352. Buona. Ok. Poi Toloi, 8. Oh, Toloi, Toloi. L'abbiamo trovato prima. L'abbiamo trovato prima. Toloi chiama Toloi. Toloi chiama Toloi. Vabbè, io la metto comunque qui da parte. Sì, pure l'uguale, mi pare. Sì, che manca, però l'abbiamo trovato. Gunter, 95. Ce l'abbiamo. Danilo, 130. Doppio. Martingale, sì. Poi. Dai. Cullipari, idolo. 379. Doppio. Poi. Un po'. Silvestri, intoccabile, 432, ma penso proprio che l'abbiamo. Sì, sì. Dai, dai, dai. Poi. 407, questo manca, sì. Sì. Sicuramente. Non manca. C'hanno delle carte, la questione, non le avevo stampate. Allora, secondo voi chi è? Secondo voi, raccomando. Fermi con voi. No. Teo, pure non firmato. Dai, Teo. Non lo piegare troppo. Vediamo. Sì. Sì. Non è una cosa migliore che potesse capitare. Nella stiga un po' di fortuna. Sì, ci manca soltanto... Toloi e Immobile. Ah, ok. Due. Toloi e Immobile. Toloi. Per questo compreremo altri 100 euro di pacchetti. No, no, aspettate. Eh, magari se esce il box. Se esce il box ci facciamo pensare. Se abbiamo tre pellegrini da scambiare, un lautario. Ma in realtà, devi sapere che su Instagram un sacco, sto io di solito, come ha detto a rispondere su Instagram, ci vogliono scambiare. Ma è il punto che è estremamente complicata come cosa, però, raga, stiamo provvedendo. Comunque abbiamo, tra l'altro pellegrini tutte firmate, nessuno ha la base. Neanche la base. E diciamo un po' di varietà, vabbè. Comunque come giocatori in generale manca Immobile e Toloi. Comunque abbiamo Rachmani, Cabral, Quagliarella, Martinez, Teo e Pellegrini. Regà, non ci possiamo assolutamente lamentare, chiudiamo con questa perla che era quello che volevo, quindi assolutamente contento. Vabbè, più che firma mi sembra tipo un... Tipo te la firmo veloce, eh. Ma che è? Ma forse Pellegrini è un po' più firma, direi. Quello di Lautaro, ma che è? Pelle Lautaro con... Cos'è, cioè? Mi immagino che quando filmo così a cerchietti, ma cos'è? Vabbè. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non è fatto. E ci vediamo col prossimo box. Bella!